ciao ragazzi per questo nuovo video sono blitz e oggi continua nostra serie di denti rius andiamo con il capitolo 5 e continua la partita deve essere l'ospizio degli orrori penso che non ospedale ok speriamo che reina sia di turno in questo momento chi stare ne ho capito telefonica anche si parla che qualcuno l'ha utilizzata per fare a se lo piacciono dentro ma succede quando non trovi il bagno c'è la capito telefonica un telefono buongiorno desidera buongiorno sto ci prendere mai sentite prima è una persona ammalata vero potete registro disse persona vero posso dargli un'occhiata assolutamente no sono un della legge lei deve far vedere quel libro e dove sarebbe il suo distinto nell'altra giacca nel caso spero sia migliore di quella che indosso adesso ma perché tutti i voti nella giacca di junior non è brutta devo chiedere di andarsene tra un paio di danni così per poi inutili insistenti a un diversivo si fa un altro passo di quella dietro l'ho descritto con taser questa marca di capone 8 ma per di stile carbonate perché riesco forse la dea buona la cabina telefonica quanto parla con le percepite dell'espizio ha vinto un viaggio in una meta e storica pronte ancora lì e passano una pazza ok c'è detto libro ecco il giusto dell'infermiere rina ma vediamo se mi dice nulla non mi dice nulla è l'anagramma di rena al press è vero potrebbe essere lei il suo turno iniziale 18 e finisce all'uno adesso sono le 16 tutte 9 pare che dove aspettare devo aspettare non vedete lo fa nel tempo no quando adesso turno le ragione si doveva cambiare l'euro e ora dovevo disattivare tutto far tutto adesso a questo la signora pace da belseggia il servizio perché non è ancora arrivata imprecazioni pari chi vuole saperlo sono stati giù devo portare le mentite eccetera per fare clic nelle domande facciamo a città di polizia non leggi il giugno state morendo tutti anacleto ragadè alta il liceo chi c'è detto tutto questo a qualche prova che le mille che qui in mia questa foto di agatha fu il tra i membri della sette ecco per suomini che ne mettono ad uno delle due donne il pace del libro di ma la giovane ero molto diversa la prova i migliori di una vecchia fotografia tu sai qualcosa parlo o ti arrestero e ti interagirò alla legge allora forse micco veribili tacere ok forse forse oscure io penso che dietro questa faccenda ci sto essendo umano il cardosso sento puzzo di alcool non dovrebbe bene bene quando è in servizio sono libera di andare a un limite a ma capo ma sono vicino tra il killer mi lasciando il killer bla 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 a mia docente non è una cosa faccia ricorda se la lasciamo libera di andare potrebbero essere ucciso con migliaia alti membri da sette perdemo l'unica pista che abbiamo se è una mani e che capo con i suoi amici tanto meglio quindi andati non mi stanno finendo a fine anche questa storia torna a casa di riposo dove sapere saperne di più o no di nuovo lei se dopo agente 00 cervello si tocca ancora il mio bag lo infilo nella macchina del caffè l'accorato tutto solo devo farlo in giro attenzione arrivederci con piccolo di giro credo sia una specie di copino se è un copino non c'era niente qua ok siamo indietro che un'altra cosa che doveva cambiare l'ore ma sono adesso lo rimettere le ore giuste non penso che funzionerà due volte lo stesso piano lavande di sa signore c'è un fratello sapeva è un amico mico dai c'è fra posso da parte una bellissima giacca i temi infermiere dovrei tirare una divisa da infermiro qualcuno ha diviso pronto poi accetto ho già mi sono confuso la visita da donna così di tirarla certo del sol certo di risulta siamo in un medico la tua parte credo con deposito come non detto come la ricci come si possa fare qualcosa una giacca che noce che sta ricevuta che forse devo fare non credo che ci casca due volte ok ok mi è caduto ok 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 . . . . . . . Sì, 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 sì. non si può entrare carallo questo armadietto è chiuso che penso che non possa entrare c'è un fogliette per terra ha andato via luce non è tornata ricevuta ok ciò le cv tesi posso andare a prendere mio vestito ma anche se ho un vestito non mi riconosco perché ho i capelli da uomo che stupido ho fatto un dopo clic sempre il mio sito da uomo dir che mi riconoscono subito se no alla ricevuta amico mio ecco la ricevuta ciao ok torno con il 282 forse ho detto ancora dentro quella casa perché c'è i miei armadietti forse di quella forse di andare l'armadietto di reina penso che sia una reina oh l'arma dietro non metto e due c'è aperto entro su di trucchi ok c'è un'età di un giorno di 10 anni fa forse dove c'è adesso da andare possono dare come si può smettere vestito mandato lo faccio dopo il doppio clic mi piace siamo dentro l'ospedale ma penso che in ospedale ma con sua parrucca una parrucchia portavia e ce ne andiamo che sono bellissima mi hanno sposato perché manca carta insieme a carta nella casa penso che se la casa se penso giusto che la parte di sui appartamenti forse non vorrei vedi adesso questa finestra siamo un po strano che tutte le finestre sono aperte ok sul lago è vuoto si vede che vuoto perché faccio il doppio clic così il doppio clic non mi piacciono faccio questo che ho la carta la testa per entrare perché non scopo adesso ce l'ho fatta sono bellissima te vero che sono bella no le vecchie che vola con le tre regole la prima stanza si entra sempre mi ricordo con la stanza non c'erano i loro nonni di di junior di toni e tommy e vedi aveva ragione mi ricordo ancora bene tutto toni e junior di che non sembra brutta da come la giacca della persona non penso che questa brutta già questa era bellissima giacca era ogni cosa posso passare che sono stato intelligente subito messo il visuale distort ho messo lo schermo lo schermo obbligo questo mi sembra forse un'altra stanza penso che il mio nonno penso che il mio nonno se un angelo caduto cielo mi spiace ok ok sono riusciti da undici anni nene paris e linea rene scudo il betto non lo conosco dubbio sono già che aspetto con il cane sono due la verità che non ho molte po di questa donna ok chi di più è fatto qualcosa di brutto non ancora mai soprattutto che molti ospiti si siano spenti prima del tempo cosa a chi delle firme a scomparsa ma si dice parlare dell'infirmia scomparsa dieci anni fa durante il turno di notte certo è stata una tragedia e eravamo tutti molto effettiva dolce caro bello chi di maggiori informazioni sai dirmi quel cosa sicuramente l'ha notato quello sospetto periodo in cui come le scomparsa nascosta e mi ha detto come sempre per aprire con la combinazione e sono stato troppo devo e spaventata per lasciarlo a questa stanza non ne ha portato con nessuno e la polizia non mi ha fatto domande e non è il primo formarsi certo 168 anzi non era 816 forse a 6 8 1 accidenti non mi sono quelli non ricorda 6 8 1 6 8 1 ok penso non 6, 1, 8 1, 6, 8 ok 8 6 1 6 8 beta 8 1 1 ok si è aperto se si sta leggendo questa lettera vuol dire che non ho superato la notte temo che abbia ucciso dei pazienti e nascondere proprio nessuna arma dietro 1 o no non si ammazza no 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 illuderti occuperà del nostro amico di te appena ti avrà messo a dormire con gli altri vecchiacci o no adesso liberiamoci di questo pagliaccio anche questo a quanto la finestra ecco il corpo di cara ha raccolto tutto questo se potete arresto di questo avrà ciò che si merita che si bussa fuori dalla finestra il cup il cupido pensavo che sta vecchia e morta e te mi sembra che vogliono tutti quello resto si si ragazzi per sicuramente vi sono l'uspero adesso perchè si potrebbe essere l'uspero quello installare una bottiglia speravo di inceppare il scuola per vedere il condotto ai fine di questi minacci bene questo senti meglio accetto grazie manda giù solo te caldo adesso ti posto che era tutto si deve iniziare a mettere a fuoco timi dove mi trovo se nella mia trama giugno venuti qui fuori che ho cresciuto dentro giugno non credi che non ci scorta dei vecchi amici nemmeno quando diventi timi il tossico perché timi perché ti erido così perché a volte auto distruggersi e provati di dilettarsi capisci come ti senti ho letto i giornali quindi si hai ragione si credo che tu ha ho preso quello uno facciamo un patto timi cosa hai in mente questo video è tutto di dentro sun dimos si vanno al prossimo capitolo e ciao 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 ciao